Allora, eccoci qua su Gears Tactics Dunque, finalmente l'episodio scorso dopo una lunga sessione sul ponte Se abbiamo visto faccia faccia Ukkon che a quanto pare è parecchio potente Perché oltre a creare i Brumac eccetera, i Corpser e altro Ispirando Emulsion mi sa che diventa molto molto forte e si rigenera Perché Michaila l'ha sparato sulla mascella, in bocca praticamente E se in testa, sembrava morto E invece no Allora, il gioco ci ha detto che Dobbiamo sparare i serbatoi E dobbiamo spostarci da qua perché qua Arrivano, arriverà una salva di razzi Quindi Aspetta 2250 e tanta vita Allora No In attesa Io mi metterei tipo qui Proviamo 53% Cerca di proteggere i serbatoi Colpitelo dall'altro lato Sei tu dall'altro lato E io però starei tipo Vedetta Qui siamo al coperto Ok Con Gabe Probabilità 100% vai Il Bromac sta girando Sta girando Vabbè Ah c'è una cassa Sì vabbè Non è Non mi sembra il momento Mi metto di qua Ci sono Aspetta Marcella Sto ascoltando Troppo vicino Mettiamoci qua Proviamo a sparare Eh in teoria lo becchiamo Vediamo Bene Abbiamo danneggiato le sue armi Una cosa in meno Sì beh Hanno un bel po' di vita le sue armi Ah può sparare un'altra volta Eh sì Dai con Marcella spariamo Perché poi la vedetta è messa così Quindi non vorrei Che poi si c'è il fuoco amico Allora Ok dai Sì Manca Micaida Due su tre Cassa Eh ma poi mi rimane scoperta No 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 Sono in movimento Facciamo così Facciamo Aspetta Così Vai Ok Ok e poi mettiamoci no Di vedetta Vediamo cosa fa Ok Ah la vedetta Non serve a niente Farbagliatevi Non offritegli un bersaglio facile Che non ha sparato Porca vacca Merda Se ti capitano Tiro quei cannoni Spara Ah attenzione State giù Ce l'ha Ok 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 Missili in arrivo Ha preso il muro No Vabbè la buca di vermi No Pazzarola Eh Proprio lui Eh Ehi era un tiro perfetto Come potevo sapere Che Hukon fosse una specie di Super verme Allora aspetta Ma è un problema 72% Ehm Beh Micaida potrei lasciarla qui e fuori Dall'area Ehm Che altro è Gabe Oddio Aspetta In attesa Con Marcella Lanciassi No Una granata Eh Proviamo Proviamo Ecco Prendi Quindi Lui comunque Attacca Tre volte Praticamente Ma anzi Si è mosso Attaccato Braccio destro Braccio sinistro E poi alla fine Spara i razzi Fa un bel po' di roba Ok Eh Io però con Marcella Mi sposterei Mo La vedetta Non serve a niente Andiamo qui Ci arriviamo qui Ok Qui? No Eh Questo è un po' Debole Oppure Andiamo qua Prendo posizione Avanti Con sit Cavo Tre azioni Due Tre Qui è fragile Inutile mettersi Andrei di granata Con lui Vediamo In movimento Vediamoci qua Granata Di poco Dai Non ci arriva di poco Allora no Aspetta No Facciamo Ok Quasi Quasi andato Però Qua c'è Il prossimo Turno Abbiamo un bel Problema Quindi Mi sposto Più indietro Per forza Sennò è un problema Quello Dobbiamo Stiamo così Eh già Ok E stiamo Con entrambi Di vedetta Così Bel perimetro Da coprire Ah No Bersaglio No Bersaglio coperto Porca Vanca Aspetta A saperlo L'avrei fatto Prima E no Micaela Non volevo Spostarla Però La spostiamo Ok E stiamo Così Vediamo Vediamo Ok Adesso con chi ce l'ha Come si è spostato Cosa Sta pensando Aia Ci mette un po' A Povero Seed Attenti a quei razzi Ok Aia Odioso Avvietto Allora Aspetta Con Gabe Facciamo fuori Questo Questo Chiudiamo la buca Come non ci arrivo Allora facciamo così Ci spostiamo E prendiamo la cassa In arrivo E chiudiamo la buca Ok Granate in arrivo Questo dovrebbe rallentare Con Sto ascoltando Micaela Metto così E spariamo Ok vai che sei girato Sei girato Allora Con Io direi Ci ha chiuso un po' All'angolo All'angolo Però Usiamo la granata Ah ma no Vedi che possiamo Selezionare il bersaglio Della granata Ok Facciamo così Granata Ok E si rigira Si rigira Ovviamente Aspetta un attimo Che io mi sposterei Che io mi sposterei Tanto Tipo qui Aspetta Non riesco a vedere Ok Con Marcella Abbiamo la mina Di prossimità Ma forse Non so se Gli fa qualcosa Ok 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 Così attacca Una volta di meno Armi distrutte Dovrebbe rallentarlo Poi Usiamo Proviamo Stamina Mettiamo qua Ok E io mi Sposterai qui Prendo posizione Vediamo Ok C'è là con lui E9 Di la mina Non serve a niente Contro di lui Ok Ok Non li ha presi Muoviamoci Raffica di missili Scusa Dove Dove Mira Inizia lo spettacolo Gente Ah Qui ok Non si vedeva Allora Potrei Con lei Eh Devo ricaricare Ricarichiamo Ricarico Ah Non siamo A portata Così sì Ne sprechiamo Due Di movimenti Però Porca vacca Così sarei a portata Ma sono dentro E allora niente Stiamo così In attesa di ordini Aspetta Doom Gabe Non sono a portata Nemmeno così Vabbè che tanto Ce l'ha con loro due Quindi Cioè Possiamo Andare qui Terapia di gruppo Chi vuole uccidere Qualche verme Ok Adesso E dove mi metto Qua Qui Eh Tre azioni Però Così due Allora Allora Aspetta Potrei Guarda Potrei Facciamo così Ci mettiamo Affermativo Diventiamo invisibili Ok E con Seat Sempre tre azioni Porca vacca Guarda Guarda Considemi Sposto qui E attiro La La sua Attenzione Colpiamo Per forza Perché l'altro Non ci arriviamo Colpiamo questo Ancora Devo ricaricare Ok Adesso Cosa fa Ah Proprio Ah Lo prende In pieno Mi sa Sta pensando Ah Però Pensavo Peggio Dai Ok Siamo un po' Uuu Lo farevo la buca Eh Ma scusa Non mi hanno Mi hanno ignorato Eh Ah si Eh già Allora Allora Aspetta Eh Io sparerei Al Brumac Ma Caracca Aspetta un attimo Eh Eh già Non becca Non lo becca Io farei Sto pensando Tutto ok Eh potrei Ah ne usa tre Facciamolo Sto arrivando Ok Poi Ammazziamo Questo Ok Poi Eh no 100% 22% Con la pistola 88% Ma non muore Porca vacca Così 2% Ehm Niente Usiamo Due colpi Di pistola Ok E l'ultimo Usiamo Il cecchino Ok Eh ne ha di vita Però eh Porca vacca Lo scout Ah potrebbe Distruggergli Però poi Devo andare via Aspetta Andiamo qua Magari Allora Un colpo Lo usiamo Così Ok Ok E poi andiamo via Esatto Ricevuto E si Del povero Seed Ehm Deve ricaricarmi Sto ricaricando Posso Sparare Spariamo 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 al serbatoio Va Ok Primo serbatoio distrutto Continuate a sparare Mi sembra un tirannosauro Ok Adesso ha ancora un'azione Si deve spostare Però Metterei Qui Ecco Dove va Lui Ce l'ha Con l'ultimo Che gli fa danno Praticamente Si Non l'ha beccato Perfetto Mi sa che Potrei usare Seed come Esca A sto punto Ah lancia più Uh Che ha proprio qui Ci pensa Marcella Dai Aspetta Bene tocca a noi Aspetta un attimo Spara però Più missili Allora Come possiamo Fare Sto ascoltando Due turni Assia le granate Eh qua Deve ricaricarmi Per forza È ora di ricaricare Io quasi quasi Sposterei qua Allora Spostiamola qui E si mette Divedetta Così Divedetta Seed Aspetta Si può spostare qui E si mette In movimento Vediamo se Riusciamo a sfruttare Il fatto che lui Affermativo Ok Dunque Lui è attirato Da chi gli spara Per ultimo Quindi Possiamo E non ci arrivo Ci arriviamo Su tutte le azioni Allora Facciamo così Ricarichiamo Ricaricato Sono tutta orecchie Micaela Si sposta Così E becca Il serbatoio Deve ricaricare Ancora un colpo Ah becca Si Colpo critico Oh bene Ho fatto fuori Qualcuno Lui Eh no Allora no Aia Mi sa che lui Allora Semplicemente Aia Semplicemente Attirato Dai più vicini Ok Aia Aia No vai via Mamma mia Siamo in fin di vita Qui Siamo in fin di vita Aspetta Ah un attimo Un attimo Ok Sempre sottotiro Quella Poca vita Però l'arma Eh Però lui Agisce di pestone In attesa Allora Potrei No No È giusto fuori Dall'area Seed Ok Dopo questa Non si rialzerà Lo direi Così Per forza Ok Ok Eh ma Omi si deve Allontanare In qualche modo Per forza Eh per forza Eh non può Può muoversi poco Purtroppo Purtroppo Può muoversi poco Non ci arriva malapena qua Eh mettiamolo qua Sì E io Marcella Vediamo Non so se ci arriva Eh non ci arriva Infatti Non ci arriva Mi serviva Un'azione In più Ci ha chiuso In un altro Angolo Si sposta Qui Marcella Per forza Arrivo Speriamo In bene E Niente Attacca Dai Vediamo La pistola No Meglio Col fucile Ok Ottimo Non ha più armi Evviva Le armi del Brumac Sono andate Trane il lanciarazzi Ovviamente Adesso Paggame Lo devo spostare Per forza Non posso fare Terapia di gruppo L'alleato L'unità cura L'alleato Bersaglio Di 100 Salute Ok Vai Non possiamo Ma è una cura Vedi che non va Cos'è Ah no Vedi funziona Allora Stim Stim In arrivo Ok Eh Dovevo Un quale Forse Marcella Prova Fai niente Non andava Vabbè Possiamo sparare No Perché Non Però ci avviciniamo Procedere a piedi Sto ascoltando Mi cagli La tengo sempre Un po' In fondo Deve ricaricare Sto ricaricando E spariamo Ok Ci siamo Meno male Allora Aspetta Marcella Riesco a spostarla Qua E la sposto Qua Via Tanto Siamo fuori Dall'area Dall'esplosione Poi Eh Non ci arriva Invece lui Aspetta No Eh Lui è più È messo peggio Di poco Deve anche Ricaricare Ma fa niente Eh Non so dove Metterlo Eh Troppo vicino Porca vacca E Niente Vabbè dai Lo mettiamo qui Eh Per forza Eh già Ok Adesso Gabe Lo mettiamo qua E spara Si è girato Fuori portata Ci sono Lei la spostiamo Giusto di uno Ok E magari Guarda No Ricarica No Non lo so Lo sposto più indietro Un pelo più indietro Dai Lei ha due azioni Ma Vabbè Facciamo che ricarichiamo Sto ricaricando E basta E basta Basta Fine tu Fermi in avvicinamento Ah potevo ricaricare la pistola Vabbè L'ho visto adesso Che non era carica al massimo Povero Sid Aia No però eh Dai È ora di farci sentire Vabbè Loro In teoria Muoiono eh Perché sono Proprio Hanno un piede Nell'area rossa Eh Quindi facciamo così Aspetta 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 Sid Certo Certo Deve andare via Andare assolutamente via Lontano Lontano Un po' qui Per forza Ok Ok Game Usa la motosega Aspetta Su di lui Su di lui Ok Ok E poi Spara Eh vabbè Si spara a lui Dai per sicurezza Ok Slay Non può ovviamente Spara così vicino No No E Così uso un'azione Allora si facciamo Eh sempre per sicurezza Si loro in teoria appunto Muoiono Però Non so Aspetta Si mette qua No Qua in teoria Prende il Brumac Dai vediamo No lì tre azioni Due azioni Ah già è vero Porca vacca C'è quell'attacco Di opportunità Maledizione Vabbè Niente Ci mettiamo qua Lo stesso Sto ascoltando Marcella Può colpire solo lui Ma No Granate Ma la mina Non serve a niente Contro di lui Quindi Facciamo che diventa Invisibile Ok E basta Faccio ricarica Bene Ricarichiamo Ok Può ricaricare Da invisibile Perfetto E basta Fatevi sotto Facce di merda Ok Teoriamo muore Quell'abietto E infatti Chi ha insegnato Che ha insegnato Quel cosa A sparare Ranzi Ok Ora tocca a noi Adesso Saremente Era tirato Verso Verso Micaela Perciò Seed Può anche Spostarsi Eh ma no Mizzica Tre azioni Cioè Non ci arriviamo Però Deve anche Ricaricarmi Ok Vediamolo qua Comunque Lontano Pronto Non fa alla fine Molti passi Lui Eh Quindi Vediamo Io lo metterei Di qua Facciamo Terapia Di gruppo Ok Chi è con me Ok Steam Cura Lei Stim in arrivo Perfetto Sto ascoltando Micaela Mi deve andare Un po' più indietro Ci penso io Eh io Lei La terrai sempre Nascosta Sto punto Ah però è vero Però è vero Che ci vogliono Tre turni Sì Tre turni Di ricarica E dove la mai La lascio qui Non so Non saprei proprio Mettiamola qua Vediamo cosa fa E Granate Ok 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 Basta Sì Rilevata attività nemica Dove vai tu adesso? Verso qua Ok Ehi Non fa tanti Tanti passi Vediamoci Raffica di missili In arrivo Potrebbe colpirlo Seed Forse Però Ria Ecco Non vedo Mo' Mo' Ce l'hanno con Seed Porca Vacca Ah Ehm Che mi deve ricaricare Tra l'altro Allora Fatevi sotto Diciamo così Ma aspetta Questo muore Questo mi sa di no Fiede E niente Tutte le azioni Mi consuma Posso neanche metterlo Di vedetta Fa niente Lo spostiamo qua Pronto Adesso Ehm Scouter a porto Non ce l'ha Tiro No No Ehm Così sì Ma è molto Vicino Davvero tanto Vicino Se faccio così No Ah no Sì che c'è da tiro 74 Vai Prendilo E lui si gira Così Ok Ma ce l'ha con noi Ok Aspetta Aspettiamolo qua Anche se no C'è lui Lui mi spara Poi Allora Allora Non so dove Metterla Oppure Vediamo se Riesco a centrarlo Sono pronto Con qualcun altro No Ok Ok Con In arrivo Così lo giro Ma come Non è a portata Vabbè No A quanto pare No Se faccio Dove non ci arrivo Fino là Oppure Pure mi sembrava Vabbè Lo sposto Più avanti Dai Magari attiro La sua attenzione Ok No Qui andrebbe bene Se è un po' vicino Rischiamo A colpire questo A 10% 10% No Un colpo Sprecato Granata Oh Granata Sì Però andiamo di granata Granata in arrivo Ma scusa Ma non gli abbiamo fatto nulla Cioè devo per forza Prendergli Il serbatoio A quanto pare A quanto pare Rimasta solo Marcella Che non so dove metterla Aspetta Questa cos'era Da percorre un lungo tratto In linea retta L'unità rimane nascosta Ok Vediamo L'unità rimane nascosta Così siamo fuori Facciamolo In avvicinamento Vediamo Ah no L'unità rimane nascosta Sì Ovviamente è nascosta In questo senso Fa niente Però ci è servito Per fare più strada E adesso Non lo so Adesso Non lo so Non becchiamo nessuno Non abbiamo niente a portata La ricarichiamo Ricarico Copritemi I vermi ci stanno attaccando Vediamo Che ha Questo però è stato colpito Manca poca Poca vita Ora con Micaela Adesso gli dà Una bella pestata Prima che ha l'attacco Ecco Razzi in avvicinamento Ok Ok maledetto Non lo posso muovere Non lo posso muovere Adesso Non lo posso muovere Facciamolo su serio E il turno dopo Questo muore Però non lo posso muovere Perché sottotiro Da tutte e due Aspetta Possiamo intimorire Tempo scaduto Faccia di merda Ecco Ma questo non muore Però almeno si è allontanato Allora Eh cavolo Però Cioè davvero Ma si Si muove poco Volevo mandarlo qui dietro No niente Non possiamo Così siamo Eh no Potremmo lui Ma no Ah devo spara Questo E poi non lo so Fammi vedere Gabe Come è messo Gabe Non ci arriva di poco No Si che ci arriva Perfetto Allora si dai E per forza Devo salvarlo Ok Aspetta In attesa di ordine Seed Come non c'è un bersaglio valido Ce l'hai davanti Perché non è Non l'ho capita Cioè perché non Non riesce a sparare A questo Non posso neanche andare Di baionetta Questo è il turno dopo Però ci fa secchi Eh E vabbè E niente Cerchiamo di allontanarci Più possibile Ti metto in viaggio Forza Ok Allora Michaela Eh la spostiamo qui E marcella E marcella E marcella Ma che adesso Ci siamo allontanati Per bene Trocca solo a marcella Ma non può fare nulla Quindi fine turno Preparatevi gente Ok Ce l'ha con noi Razzi in avvicinamento Adesso vediamo l'abietto Come si muove Ah ce l'ha con Ok Non male Trovaci ancora A più vita Ok Allora Spa Eh 14% Porca Quella vacca però Spostiamoci qua Facciamo Bersaglio coperto Ah Unità spara Con un bonus danni Il bonus spara 100% Della salute mancante Sì ma Mi sa Prende Non si sa come Ma Ricevuto Prende Gabe Non posso muovermi Se no Mi prendo Il colpo Cioè Mi allontano E mi faccio Prendere Il colpo Eh sì Dai Facciamo così Bello Ok Fai Ok Allora niente Non spreco un colpo Per lui Perché comunque Il turno dopo Muore Ci sono Eh quindi Niente Quindi Spostiamoci Qua Però Che fatica Eh Mizzica Questo qua è solo il primo brumax Agli altri 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 Quindi io Vorrei approfittarne Nel senso Magari Mi avvicino Voglio vedere Cosa fa Tipo anche Ecco Mi metto qua Diventa invisibile Ok 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 E' attirata Da Ok Questo l'ho fatto bene Così gli siamo alle spalle Eh però Vabbè Sono in due Qua Ci hanno anche con noi Tra l'altro Allora Aspetta Prima Spariamo Finalmente Al serbatoio Adesso però Si gira Eh E mi allontano Un po' Forte e chiaro Aha Ok Con Micaela Mi metto Guarda Mi metto anche Qui Ok Ok Inutile in effetti Stare coperti Con lui E spariamo Colpo critico Tra l'altro E si è girato E vabbè E Ricarico Sto ricaricando Ok Adesso Qua è stazione Insomma Mi devo spostare Mi devo spostare Beh Ok Beh Che non Ah Non funzionava Ma boh Qualche Baggettino Non so Allora Mettiamoci Guarda Ci mettiamo Qui In transito Stai di vedetta Va Occhi aperti Ricevuto Seed Due su tre 3 su tre Facciamo 2 su tre E stiamo di vedetta Così Qui siamo al coperto Rivediamo Un po' In avvicinamento Va con Marcella Quante cavolo Di armi Ha Addosso Questo Spazio Non imparano Ma Ma porca vacca Non l'ha preso Sembro un tiragraffi E mi ha interrotto Aia Attenzione È veramente dura Veramente dura Aspetta Può Ok Di nuovo In piedi Ok Non si può muovere L'unico movimento Che può fare È per scappare Però E adesso Gabe deve prenderli Entrambi Versaglio coperto Sono quasi a secco Caraca Non ho preso Niente No 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 Qua Mi sa che muore Seed Ho idea che Muore Ma anche uso Vediamo Aspetta un attimo La granata Sa che la granata È la salvezza Guarda Per forza Dai Ok 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 No Ok Ho trovato la soluzione Meno male Adesso però mi devo spostare Spostate Ok C'è lui E vabbè qua ci spostiamo Così Ci spostiamo Eh Eh no Pazzarola Qua Ok Allora Adesso In attesa di ordini Qui siamo sotto Vedetta Non posso muovermi Non posso neanche Diventare Nascosta Non posso lanciare La granata E se mi mettessi Di vedetta C'è così Tipo Zona di uccisione Stabilita Ecco Così nel caso E attiro Con Micaela Attenzione Spero Questo gli ha fatto male Secondo serbatoio Andato Si è rimesso Come prima Ottimo Adesso gli sparo Ancora Ok Oh Non avercela Con Marcella Eh Attenti Fermi in azione Ecco Ti pareva Aia 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 Indietro Impissima vita Occhio Il bruma Che aumenta Il raggio Delle esplosioni C'è più grande Il cerchio Forse No 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 Aspetta Mi serve Aiuto Aspetta Arcella In pericolo E c'è una Bucca Proprio qui Proprio lì Bene Tocca a noi Aspetta un attimo Può tirarsi su Tirati su Non ho ancora finito Vediamo 18% C'è vista Ce l'hai qui Dietro l'angolo Facciamo così Mina di prossimità Ti è Però la devo mettere E Marcella sta qua Pazienza Così Ecco Ricevuto Adesso E già Micaela C'è una buca di vermi Che dovremo Tappare Ma Prima Usciranno I vermi Quindi È un bel problema Bel problema Potrei Eh no Così sono scoperto Così sono scoperto E mettermi Guarda qua Due turni C'è due azioni Facciamo così Ok Spariamo Al Brumac Continuate così Fuoco a volontà Sul Brumac E adesso Due su quattro Che quattro E Io volevo Prendere il Brumac Ma No No questa è nostra Io mi metterei qua Guarda Faccio strada Ecco Questa è la nostra Mina Tutto questo Muore Che esplode La Siamoci qua E Facciamo terapia di gruppo Va Ok Chi è con me Presto Stanno arrivando Bucca di vermi Chi abietti Povera Povera Marcella No Zero Mi hanno colpito Ah Razzi in arrivo Ottimo Ma lui se ne va Bastardo Bastardo Quanti indicatori Allora aspetta Dobbiamo salvare Marcella In qualche maniera Tirarsi su Non può Ovviamente In attesa di ordini 12% Con la pistola 53 Proviamo Dai Porca vacca E proviamo ancora Per forza No perché se no Ok Lui con la motosega Che ma passa in mezzo Quindi Non può Allora aspetta Oh Alleluia Fuori uso Adesso Eh Due Aiutatemi Eh un attimo Ci arriviamo Però poi siamo Versagli Facili Questo è un problema Rischiamo Ha poca vita Gabe Poca vita Dai Rischiamo Movimento Non abbandoniamo Nessuno Grazie Pronto Allora Ha le granate Però Mi caira Quindi potrei Devi ricaricare Aia Perché potrei Eh no Non c'è una granata Ci arrivo Sparare No Cioè se lancio Una granata A loro Non posso Tappare la bocca La pistola Vai non No Non infliggiamo Tanto La pistola Faremo Poco Infatti Allora Aspetta Un attimo Lui E se no Dai Usiamo la granata Per loro Quattro Che poi Sono rischiosi Sono pericolosi Più che altro Mi muovo Consid Mi metto qua Sì Ah Marcella Ha tre azioni Attenzione Perché l'abbiamo Rianimato Col compagno Aspetta Un attimo Vai Adesso arriva Seed Sono stupito Ah no Aspetta Anche Seed Ah Sì Ma scusa Ah no Non posso Cliccarci No ma Aspetta Non ha usato Granate Infatti Infatti Quindi Adesso Ricarichiamo Sto ricaricando Qui E mi devo Spostare Ci spostiamo Eh Anche se Lì Usciranno Subito Non arrivo Da nessuna Parte Nessuna Ci mettiamo Qua Guarda Cerchiamo di Attirarlo A noi Ma sarà Difficile Marcella Facciamo Che resta In zona Marcella Tipo Qui Perché Secondo me Adesso Viene preso No Nascosta No Granata Eh no Mi devi Prendere Dietro Ma Dietro Non ci Arriviamo No In teoria Sì In teoria Sì Eh Eh Però Si sta Fermo La vita Si toglie Perché Si muove Vai Sì Infatti Preso Abbiamo ancora Un'azione Divento Invisibile Oppure Oppure Ricarico Rischiamo Pronta A combattere Vermi In avvicinamento Ocio A Gabe Adesso qua Escono Sposa anche La nostra Granata E ora Ce l'avrà Con Gabe Sicuro Ecco Ecco Traffica di Missili Questi si muovono Ma Lui può Rianimarsi Da solo Volendo Però Ho lasciato Qui vicino Marcella Bosta Gabe Eh no Non ha le granate Non resisterò Per molto Vediamo Così Usiamo Un'azione Prendo Posizione Ok Così Adesso Marcella Mi si Sposta Qui E mi Diventa Invisibile Gabe Gabe Dove lo Metto Ah guarda Lo metto Qua Ok Si Con Michaela Aspetta Si Con Seed Non becco Nessuno Dei due Becco Solo Il serbatoio Non potrei Puntare Su di lui Magari E vedere Che se Muore Lui Magari Completiamo Il livello Non lo so Questo che Non ha Tantissima Vita Proverei Però è vero Che si gira Sempre Sto Stronzo Tutte le Volte Allora Con Facciamo Che Arrivo Qua E sparo Loro Due Nemico Abbattuto E Ok Al diavolo Tanto Poi la Buca Si chiude Da sola Se Aspetta Un attimo Guarda Mi sposto Mi sposto Qui No Sbagliato Ok Si è chiusa Perfetto Ok Non attacca Perché sono a distanza Di sicurezza Allora Allora Vediamo un attimo Aspetta Gabe Può prenderlo E ne approfittiamo Ok Gabe Mi ricarica E si sposta Di poco Ok Poi Poi Sono proprio Qui Ah no Lo prende Lo prendo Si Sto finendo le munizioni E si gira Con Marcella Diamo il colpo Definitivo Vai Mamma mia Ciao Ce l'abbiamo fatta Non mi ha tenuto conto Degli ultimi abietti Porca vacca È stata una missione Lunga E difficile Difficile Oh Perla impegnativa Meno male Ho scelto Intermedio Non la sono vista brutta Terminati frangenti Iaz È tardi Ho visto Ukon Prendersi una pallottola in testa E rimettersi Di nuovo in piedi Che cos'altro Mi stai nascondendo Hai avuto ordine Di ucciderlo Non di scriverne la biografia I COG Mi hanno mandato qui Dove Dove mantenere un segreto Costa la vita Alle brave persone Ma ci sono anche Dei segreti Che possono salvartela La vita Pensa al tuo lavoro Eh Ce ne sono di segreti Due settimane dopo Atto 2 Capitolo 1 Allora Mi chiederete Perché ci siamo Allontanati dal conflitto La verità È che non siamo Ancora pronti Quel bruma Che era soltanto L'inizio Il nemico Ha un intero zoo Di vermi a disposizione Peccato che nessuno L'abbia ancora visto Al momento Tutto ciò che abbiamo È la grinta Ed è proprio per questo Che il vostro addestramento Sul campo Inizia oggi Ascoltate Non piace per niente Neanche a me Ma sappiamo tutti Che il COG Sono bravi in una cosa sola Addestrare soldati Perciò Impareremo ciò Di cui abbiamo bisogno E rispediremo Ukon sottoterra A calci nel sedere Oggi seguirò Un gruppo io stesso Il maggiore Redburn Si occuperà di voi Più tardi Ma che fortuna È ora Andiamo a schiacciare Un po' di Eh ma ha dato Eh neanche tanta Solo Diaz È salito a livello C Vabbè Ok I posti disponibili Nella tua squadra Sono aumentati Permanentemente A 7 Va bene Vediamo un attimo Le casse 3 pregevoli Il letto sensibile Quando usa l'abilità Spara Unità Una probabilità Pare al 10% Di sparare Lo stesso bersaglio Una volta aggiuntiva L'effetto Non si attira Se non ha munizioni Sufficienti Apri Autoriparazione Se ha subito danni Durante l'ultimo turno Nemico L'unità Recupera Una montare Pare al 10% Della sua salute Massima All'inizio Del tuo turno Buono Disturbo Colpe dell'unità Respingono Nel bersaglio 10 danni Va bene Ok Posso Quindi Recrutare Altre truppe Ok Cecchino Tagliere Cecchino Medico Va bene E Missioni Un attimo Justo Curiosità Missione di controllo Mantieni entrambe Le zone di controllo Per due o più turni Obiettivo Secondato Va bene Ah Saremo Diaz Più 4 Minima unità 4 Quindi devo Recrutarne Un'altra Va bene Dai Mi riorganizzerò Io Andiamo avanti Mi riorganizzerò 2 Mi riorganizzerò Ti Mi riorganizzerò I Mi riorganizzerò Mi riorganizzerò Le zone di controllo